In attesa che il Ministero dia il via libera definitivo alla nuova linea 2 della tramvia fiorentina, è stato firmato l'accordo per destinare 80 milioni di euro di fondi europei del Port Fesra 2014-2020 al nuovo tratto che collegherà Piazza della Libertà con Bagno a Ripoli. A sottoscrivere l'intesa, l'assessore regionale trasporti Vincenzo Ceccarelli con i rappresentanti dei comuni coinvolti nel piano tramvie, ovvero Firenze e Bagno a Ripoli, Sesto Fiorentino, Scandiccio e Campi-Visenzio. Nei piani della Regione dei Comuni la tramvia fra Firenze e Bagno a Ripoli entrerà in funzione nel 2023. La Regione partecipa alla progettazione che è in corso, anzi aprirà la conferenza dei servizi proprio nelle prossime settimane con 2 milioni e mezzo per quanto riguarda appunto la realizzazione del progetto e poi 80 milioni di fondi POR per la sua realizzazione su un costo complessivo di circa 220 milioni. Quindi noi aspettiamo di mettere anche in servizio linea 2 perché questo ci permetterà ancora di più di dare una risposta per quanto riguarda la mobilità in quel settore della città fra l'aeroporto e la stazione ma ancora di più quando riusciremo a fare anche questa verso Bagno a Ripoli, verso sud perché sarà un'ulteriore opportunità. Ricordo che noi oggi abbiamo presentato il progetto definitivo e che la messa in esercizio dovrà avvenire entro il 2023. Il 2019 sarà l'anno della progettazione, il 2020 auspichiamo l'anno di partenza dei lavori sono date assolutamente concrete e quindi poi nel giro di 2-3 anni la realizzazione è completa dell'opera quindi insomma il 2023 può essere davvero l'anno della tramvia fino a Bagno a Ripoli. Per quanto riguarda gli altri collegamenti è in fase di ultimazione il progetto preliminare della linea 4 fra la stazione Leopolde e Le Piagge mentre sono in corso le progettazioni di fattibilità tecnico-economica per l'estensione della linea 2 dell'aeroporto Vespucci fino a Sesto Fiorentino e per l'estensione della 4 dalle piagge a Campi Bisenzio.